hola io sono marcos cron e benvenuti nella terza puntata del mio let's play in feed the beast let's play che come saprete ormai è su richiesta nel senso che farò le cose su richiesta quest'oggi dobbiamo fare un sacco di cose quindi chiamo in aiuto newba eccola ciao hola quello che vedete di qua è attenta qui che c'è la lava è il molo che l'ho perfezionato un pochino stavo finendo ondolo 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 oddio bel molo non ti piace? può fare di meglio eh ma come posso fare di meglio per me questo è il non plus ultra della costruzione in minecraft guarda che bello si effettivamente fa schifo senti allora io oggi ho selezionato un po' di cosina aspettate un attimo che le prendo le ho scritte qua sotto allora abbiamo di aprire la pozza di lava a metterla a giorno e ricoprirla con il vetro esatto tipo un finestra e si vai a vedere se c'è abbastanza vetro credo mentre tu sali su io ti dico a quanto ammonta il totale e diciamo insomma chi ci ha proposto questa tre quattro cinque sei sei per boh sei per dieci prendine un'ottantina cioè fanno un'ottantina se non ce la vado a prendere io ho problemi con le scale lo sappiamo simona ha problemi con la porta tu hai problemi con le scale io lo so gioco con degli idioti grazie prego questa richiesta ci viene da ciccex che io ancora non ho capito come si pronuncia quindi un giorno mandami un file sonoro in cui mi dici il tuo nome e la leggo la leggo bene apri tutto sopra la lava e copri il suolo di vetro in modo da fare una finestra sulla lava della casetta è un ordine no scherzo vabbè si si è un ordine intendiamolo come un ordine poi poi uh io mi sono dimenticato di una cosa adesso purtroppo eh amore tu non hai vetro vabbè ma avrò sabbia ehm no non ho sabbia allora armati di pala e scendi qua giù ah ne hai 17 17 è buono per facciare la cosa buono? uh no eh no fa scaifo no che che buono vieni giù e facciamo la sabbia su 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 lavora schiava va bene va bene arriva mentre facciamo la sabbia probabilmente velocizzerò il oddio qui c'è una caverna no no è una piccola caverna niente di preoccupente mi butto mi butto oddio che figata ti ho ripreso allora qui le impostaziao del server house sono pregaria? no è che non mi pare di aver messo su far il server e vabbè far far away allora intanto che facciamo la sabbia vediamo altri possibili obiettivi allora intanto a me piacerebbe fare un muro di cinta come suggerito mi da 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 solar 2k11 un muro di cinta un muro di cinta stile cittadina medievale cerca di comprenderci anche il lago di lava ovviamente si così potresti farci perlomeno una bella fucina sopra va benissimo ora però la fucina potrebbe cozzare con la finestra di vetro che vuole quindi boh vedremo intanto facciamo il muro beh no potremmo dividerlo in due parti voglio dire una parte coperta e una parte fucina ehm si 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 può fa si può fa si può fa si può fa tutto ma si ma crepi l'avarizia ehm anche perchè qui sotto è sempre pieno di creeper io tipo muoio ogni 3 secondi abbiamo già una brutta esperienza con gli enderman perchè laggiù c'è una barca? ehm dove? perchè stavo facendo il molo e mi è partita via dai questo molo è carino si si è carino molto semplice se ti sapresti fare di meglio? si se mi ci metto si si allora intanto apriamo qua se no chiami Simone che è rinomato si ho capito però dopo perdo perdo completamente Simone cosa stai facendo? sto mettendo un fiorellino sopra la fence in modo che no però è un grande arredatore d'inverni pura si d'inverni d'inverni? d'inverno? d'inverno no però no l'eprima era non è buono no no prima era no mi che scrivo vuole? mi piacciono anche le farm le farm? si eh lo so però no ancora no ancora no ancora no? no ancora no sennò i video diventano troppo lunghi e windmerd non ce la fa mh capito sto per morire affogata aiuto non morire affogata senti però io ne ho preso ora che ci penso 60 e 80 di vetro beh ma dimmelo scusa 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 hai ragione hai ragione non picchiarmi no no non ti picchi allora schifosissima endermosa allora scava 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 va bene vado a fare il senti vai a fare il vetro tieni qui intanto che mi presti la tua pala mentre io ti do la mia sabbia tieni buona thank you you have a machine gun yeah machine gun dovresti giocare anche a quello mamma mia davvero let's play di metaslag problemi con le scale farò un video su questo problema con le scale allora io ho il mio problema con le scale ho paura ok che bel rumore che hanno messo alcuni mi piacciono altri mi fanno scava quello delle scale mi piace pitoc 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 si quello del della grass non mi piace per niente perchè somiglia a un creeper allora quanto ne serve di cazzo qui è enorme petro un centinaio bene allora non so se ho il coal in questa cazzo ma è gigantesca che cacchio è questo è una pozza immensa di what di lava è meglio eh perchè farò un generatore di cobblestone non plus ultra intanto c'è mio fratello che mi scrive che scheletro non è stato difficile a terraria oh che carino terraria è molto dolce cocazzato secondo me E' Steam che mi parla. Sto scendendo, ti devo portare qualcosa? Sì, mi porti un secchio. E un secchio, basta. Si attenta a quando cammini che dove sto io c'è... La lava. Eh sì, oh Cristina Davina, ok. E portami anche un piccone, visto che ci sei. E prendi della legna. Non abbiamo piccone, ovvero hai un piccone di legno. Un piccone di legno, puttatelo tutto in face. La legna... quanta? No, giusto per far qualcosina, se ci serve di fare gli stick. Ok. Infatti ho finito... Ma sta facendo notte? Già, ti sta facendo notte. Qui ci rompono il book. Tu non lo avvisi, eh? No, ma perché te lo dovevo dire? È divertente. Allontana un pochino il microfono che ti sento a bestia. Spitok, spitok, spitok. Eh, ti devo fare un po' di... ehm... Picakes. Picakes. Allora. Mmh... Saliamo, saliamo. Io faccio anche un po' di shower. Sì, possono sempre servire. Eh, con un po' intendo una. L'ho fatta tantissimo. Dammene un po'. Aspetta, un po' ne metto tutte nella cassa, se aspetti un attimino. Tu stai sprecando tutte le mie risorse. Voglio il diverso. Certo. Che t'aspettavi? Ok, mi sono fatto anch'io quattro picconi. Ma no, ne ho tantissimi! Non fa niente, non si spregano. Abbi fede che è regolare. No, perché io mi sono sbagliata a cliccare e quindi ne ho davvero tantissimi. Che, 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 che... Come cazzo, risi? Che cazzo, si ho bene, son. Su, 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 dormi. No. Dormi. E' notte, mi annoio. Non ti annoiare. Intanto faccio un breve annuncio. Ho invitato il Nubba qui, non per fare un let's play con lei tutto il tempo. Sorry, Nubba, prenditi una picconata. Ma perché in realtà ho deciso che, a parte rare eccezioni, questo let's play sarà su invito agli iscritti. Quindi tutti gli iscritti che godono di un account premium di Minecraft, che hanno scaricato Feed the Beast e che hanno lasciato un commento, potrebbero venire contattati dal sottoscritto per dirgli Ehi, magari questa cosa facciamola insieme, partecipa al mio let's play. Quindi se siete interessati magari scrivetelo nei commenti e giocheremo insieme almeno una partita. Voilà. Andiamo a dormire? Yes. Quindi mi dispiace, ti lascio. Perché stai buttando dentro al cammino la legna? Guarda che non c'è il fuoco. Mi sono incastrata, non so bene. Ah, ecco, ci sono. Stai, è impazzita. No, io no. Allora. Good, qui mi sa che servirà un sacco di hip-chop mode. Allora, io ando giù. Fai un arco. Oddio. Allora, non ci ero mai più da questa casa. No, tu sei la craftatrice folle. E non mi hai dato il... Ma perché io scendo da qua quando c'è il volo? Non te lo sei preso, non è che non te l'ho dato. Sì, tu non mi hai dato. Dovevi darmelo. Tu, 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 tu. No, sta qua. Dov'è? Dai, dammelo. È nel... No, è in quello di destra. Ah, giusto. Ah, ma hai preso proprio. Che cosa? Non l'hai neanche preso, non fare la fura. Ma cosa stai dicendo? Il secchio. Ah, no, il secchio no. Come facevi a darmelo se non l'hai preso? Io l'arco l'ho fatto, ma le frecce le hai? Ce ne stanno una decina. No, vabbè, ma lascialo lì, era soltanto perché sennò io me lo dimentico. Ah, porta del cibo. Basta, le mie richieste sono finite, giuro. Bene. Hai sbentato il... Cosa? Lo sto facendo. Basta. Guardate la roba. Incredibles. 31 o no, sono pochi, ero? Eh, no, mi pare che ti hai sentito 100, però vabbè. Ok, allora vado. Che cosa posso fare nel mentre? Vieni qua già meglio di scavare la lava. Allora arrivo. Allora arrivo. Non portando con tre... Con tre. Non portando con tre niente di prezioso perché credo che la possibilità che tu caschi qui dentro siano elevate. Ah, però sono cascata dall'albero e sono morta. Ma... Ma come cazzo? Non lo so. Ma sei cascata dall'altra parte? No, la roba dentro la lava. Dentro la lava? Sì, sei cascata qui. Stanno sulle foglie, stanno sulle foglie le roba che mi ha messo. C'è pure qui addosso a me. E lì c'è un creeper, Cassiopea. Come faccio ad arrivare lì dove sono morta? Dove sei? Mi sto buttando. Io un pochino. Guarda, qui ci sono delle due cose. Allora... Ti sbaglio a prenderla perché se no non posso scavare, non posso andare avanti. Tutti si annoiano. Eh, non riesco un po', mi perdonami, mi sto impicciando con il computer. Allora. L'hai attaccata alla siera. Dove sta? Non l'hai visto? A stessa due. Ah, ecco perché dici nella lava. Non è tutta la mia roba, se non mi sta l'altra. Sì, deve essere rimasto sull'albero. La cazzo. E un po'. Mi faccio andare lassù. Ti ributti da dove ti sei buttata? E muoio. Questa è una coda osservazione. Niente, tu non riesco a seguire sulle scale. Fai una pila di sabbia e poi la riprendi. E' una pila di sabbia, è veramente intelligente. Eh, già. Ah, ho fatto male il conto. Che ferito? No, ti vedo che crei quel pisellone di... Ah, io l'ho to persa. Di sabbia. Non riesco a trovare le mie cose. Corri su? Ma che ne so io? Non sto parlando conto. Ah, è retorica? Lo chiedi a te stessa. Lo chiedi a me stessa? Perché è questo stalk? Ehi, boh, ha rotto qualcosa probabilmente. Niente, non c'è più niente questo. Che cosa avevi? Eh? Che cosa avevi con te? Ehm, eccoli! You find it! Find! Robba. Robba. Io sono caduto da qui e sono morta. Ma è molto vicino al trampolino. Ma che strano. Ma che strano. Io non credevo che è un lippuziano. Non mi piace un po' in mano. No, va bene così. No. No, mi ricordo male. Eh sì, un pochino. Guarda che ti ricasco, eh. No. No? Allora. Sì, stavo parlando. Mi hai detto. Ti dobbiamo prendere da mangiare? Sì. Io però vorrei prendere quella roba. Che se non sbaglio sia il fertilizer. Fertilize. Fertilizer primer. No, ti prego. Non diventano di più. Mamma mia. Eh, la posso lasciare questa cosa? La toglieremo poi? No, assolutamente no. Eh, ho dei sampling sampling di quest'albero nega galattico. Eh, no, no, no. Non li voglio. Non so come cosa possono diventare. Cioè, tienili, li metti nella cassa. Poi un giorno lo scoprirò. Ma io voglio provarci. No. Tu sei venuta qui a aiutarmi a scavare. E invece... E non lo sto facendo. No, no. No, mi decido di farlo. Ma fa sicuro. No, per farti... Perfetto. Allora, ban. Non va. Allora. Allora, dimmi cosa devo fare. 60 minuti. No. Cosa devo fare? È un pirlozzo. Dimmi. Dammi una questa e io la farò. Che vuoi dire datti una questa? Dammi una questa. Cosa devo fare? Eh, devi cominciare a mettere il vetro qua sopra, cara. Quindi io devo andare a prendere. Eh, già. Più che altro lo dovresti smeltare. Eh, è molto lentino. Ci sono due fornace apposta. Eh, ma non hai abbastanza colla. Andiamo a prendere il colla. Questa potrebbe essere una soluzione. Eh, già. Eh, però... Se non ti ha in mente. Ma non riesco a... Oh, le scale! Perché? La domenica mi lasci sempre scale. No, perché... Perché? Paura? Paurissima di perdere tutto. Mettili sempre una pozzetta d'acqua vicino. No. No. Ami, brido. Sì, esattamente. Ok. Vabbè, queste qui le prenderò quando mi servirà l'ossidiana. Questa lava non mi servirà più. Ok, ne ho 64 per il momento di... Diti, what? Che cos'è questo? Di... Di questa cosa che... Ma di cosa? Di cosa vai parlando? Di questa cosa che serve. La... La Tania, è vero. È vero, è vero. Già, bravissimo. Quello lì, insomma. Di le cose che fanno le cose. Sì, le tutte cose, come dici. Mi piace perché questa serie non ho la pressione sociale di dover fare cose utili. No. È vero. Ma era un fatto che potrebbe benissimo fare così. Guarda come muoio di nuovo. Guarda come muoio. Guarda come muoio. Ma... In craft. Guarda bene. Eccomi qua. E ho dimenticato il vedo? No, ecco l'ho preso. Ho dovuto mangiare se hai fame? Sì, ho molta fame. Guarda io. Sto finendo di sistemare qua sotto. Stavo per uccidermi. Non morire. Lo metto direttamente qui? Come dici, cara? Guarda io. Così? Sì, 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 sì. Allora. Ah, ok. Sto toppando io. Sarà perché io crafto. Smettila. No. Non rompere il vetro. Mi piace. Smettila. Ah, non sbaglio. Smettila. Se lo sai benissimo che sbaglio. Posso avere un po'? No. Dai. No. Uffa. Non stare il vetro. Prendilo più... Più? Più. Più cosa? Più simmetrico? Eh, per esempio, vedi qui c'è un pezzo in più. Un pezzo in più dove? Eh, lo so. Però lì c'è la lava e qui, no? Eh. Mi ci metto il manio, dai. Ah, no, 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 no. Aspetta. Facciamo un discensore che comunque la lava la dovrò prendere. La smetti di rompere il vetro. E ne metto più da quanto è necessario. Sottitosissima. Tanto che te freda. No, andiamo a circa il call. Guarda qua. No, ma perché è pieno di sampling qua sotto? Non so. Ne hai... Ce ne sono centinaia. Ma, ma... Che cosa sta succedendo all'albero? No. Cosa sta succedendo al mio albero? Ah, io... Amore, sto morando. Tiramela, bistecca di... Tira, 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 tira... Ho più un pezzettino. Oh, oh, ma che è? Acqua. Ma non capisco. No, mi hai rotto l'albero. È diventato un bonsai adesso. Beh, un bonsai no, però... Però c'è una forma strana. Vabbè, mi farò le forbici, spulcerò un altro albero e me lo metto a posto. Ma che strano. Comunque non ti sei regolata a rompermi l'albero. Ma ho rotto un pezzettino per salire. Non dovevi rompere un pezzettino. Senti, andiamo su casa che è notte e non si vedeva. Aha. Così poi soddisfiamo la tua curiosità di piantare questi cosini. Mi fai un video mentre salgo le scale? Aspetta, Ryo. Vai. Eh, sì, i creeper stanno arrivando per cena. Ti ci dovresti mettere davanti. Non ci riesco. Potrebbe funzionare. Guarda, ora premi su. Oh, fantastico. Ma non riuscivo proprio a prendere le scale. Cari amici, come avrete potuto tornare, Nubba non è un nome a caso. No, non è vero, sono molto brava a giocare a Minecraft. Sì. Mentre dormi. Ho fatto lo smestamento chest. Quando? Quando? Hai visto che l'avevo fatto? Non... L'avevo... Poi tra l'altro ho fatto la farm che si coltiva da sola. Ah, è vero, è vero, è vero. Diamo a Cesare ciò che è di Nerone. Ma è bene. Allora, io prendo un buon mill. Ma io sono qui. Dove sei? E il letto? Oh, sto arrivando. Interessante. Stai traballando. Buongiorno. Buongiorno. Allora, come va qui il vetro? Mo' tipo l'albero si è decespugliato. Ma no, non mi dispiace. Ma ho fatto un pezzettino. Pezzettino. Sì, sì, ancora questo pezzettino. Mi pare di aver letto però adesso che ci penso un commento che aveva detto. Sì, sì, l'aveva detto. Però poi aveva detto... Sì, aveva detto una cazzata. E invece non aveva detto una cazzata. È diventato un abete. Prima era un pino. Allora, vediamo un po' che succede se pianto. Ma che strano. Oddio. No, non funziona. È immune al buon mille. Laggiù c'è un... Un zombie. Come si chiamano? Un villager zombie. Ma che diavolo? No, l'hanno zombizzato. Ma poverino. Piccolo, mi dispiace. Sì, sembrano quelli di Star Wars. Va bene. I gli yanchi. No, i gli yanchi sono di D&D. Senti, mi dai una palla. Dammi una palla, dammi una palla, dammi una palla. Ok, vado a farmela. Mentre tu fai tutte le cose, io faccio il secondo obiettivo. Incomincio a bozzare il secondo obiettivo. Vabbè? La, quella lì, no? Quell'altra. Vabbè, certo. Non questa, quell'altra ancora. Già, giusto. Ma forse ce ne serviranno di più. Dove? Senti, ma se io andavo a cercarci un po' di coal. Sì, va bene. Perché fare, gara? Perché non ne aiuti più. Guarda, sulle pareti di qualche montagna c'era. L'hai chiuso tutto qui? Devo chiudere una parte però con la stone, no? Io ce l'ho. Ne ho un tot. Dove devo chiudere? C'è un buco, vedi? Dove? Dove stai andando? Dove stai andando? Dov'è? Ma no, qui c'è la lava, ci devi mettere il vetro. Dove c'è la lava metti il vetro, non è molto difficile. Ma non è simmetrico? Non fa niente che non è simmetrico. No, non è simmetrico. Mettila. Sto mettendo, ma mi chiedo di credere che questa sia una cosa voluta. Ma che carina. Ma? Ma? Beh, poi i nostri utenti... Te la sistemo? Come la sistemi? Te la faccio meglio. Vediamo un po' di stone. No, perché tu sprecheresti la lava che sta sotto e invece quella lava mi... Quanto meno... Quanto meno cosa? Prendo le pareti unite o ti ci faccio delle scarette per scenderci. Ah, e con questo intendi muoio nel tentativo? Ma non fannoci provare. No, andiamo a fare l'altro. Va bene. Beh, per me... Poi in realtà uno mi dice... Anzi no. Anzi, in questo caso dovrà parlare soltanto C-Chex e ci dice come vuole che la rifiniamo. Vabbè, fai tu. Allora. Ah, adesso devo aggiungere il carbone. Ok, abbiamo concluso questo obiettivo. Intanto che Nuba va a prendere il carbone io abbozzo una cinta muraglia. Una cinta muraglia? Eh, no, dove la facciamo? Eh, tra l'altro non abbiamo così tanta stonna per fare... Vabbè, intanto abbozzo infatti. Eh. Abbozzo. Ci vuole un pochino. Beh, in realtà non abbiamo tanta stonna, però io... Pa, 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 pa. Però tu? A questo punto? La cinta muraglia? Io direi di levarla, non farla adesso. Perché non abbiamo i dineri. Magari faccio un timelapse mentre scavo e quando cambiamo tutta la roba lo continuo. E quindi andiamo a vedere quanta sabbia abbiamo. Io non ne ho più. Non ne abbiamo niente. Mi sta ancora bruciando tutte le vostre in ammazzarella. La mettiamo il vetro qui. Ok, scusa, che devi fare con la sabbia? Faccio l'altro nostro obiettivo, il co-even. Ah, ok. Oppure abbiamo materiali per fare la casa nel villaggio. O la casa sull'altra isola. Eh, quella lì, dico. L'altra isola e il villaggio. Ah. Vogliamo andare lì? Beh, perché no? Aspetta, fammi prendere un po' di questo ore. Oh. Che hai preso? Ore. E' carbone. Ah, non è carbone, è l'ore. Non è l'ore, carbone. È coal l'ore. Ah, sì, vabbè, giusto. Perdonatemi. Prego. Non ti sento più. Non mi senti più? No, sì, sì, ti sento più. Ti sento, ti sento. Che ne so. Boh. Se non parlo, non credo che tu mi possa sentire. Eh, già. Ok, ci sono. Preso. Allora, la facciamo di legno sempre? Sì, sì, ha detto... Allora, creati una casa nell'isola che ti ha detto di esplorare Spectre Sun, e una volta costruita, vabbè, appena ne avrai la possibilità, crea un impianto di binari che li unisce. Eh, questa quest ce l'ha lasciata... Come si age il 4 nel gerbo di internet? Ah. Waring? Waring. Boh. E dopo mia richiesta mi dice, uno stile rustico, utilizzando legna, stonna, nessun materiale prezioso. Una casa di una volta, in poche parole. Benissimo, sono bravissima a fare queste cose. Già. Ok, allora io ho preso. Due stack di legno non lavorato, tre stack di legno lavorato, e tre stack di stonna. Quindi ci dovremmo essere. Però, che dici, ci portiamo i letti? Beh, sì. Vediamo quanta l'ana ho. Magari ne facciamo un altro. Sì. Tanto i letti mi serviranno, non è che li vado a sprecare. Vai, prendiamo un altro letto. Facciamo altri due letti. a questo point. Soprano un altro po' di... Ok. ...di legna. Non ci sa mai. Come fa se io sopprendere la legna da questi alberi? What the fuck? Dove essere... Su, 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 su. Eh! Sono sparite le... Ah, eccole. Cosa? No, c'era stato un glif. Un glitch, anzi. Non un glif. È un glif. Qui mettiamo tutte cose a fare. Vedi, ti confondi con Gif. Sistemiamo un pochino. Eh, prendi sto colla, perché ci serve per fare le cose. Gli ho preso... Le torci. Le torci. Va bene, va bene, va bene. Non c'è nera di più, mi dispiace. Guarda l'altezza del saule. Eh, sono momentaneamente sotto il bosco. Aspetta. Ok. Sta quasi tramontando. Quindi? Eccola! Quindi, niente, continua a scavare come tu stai fare. Quando è notte andiamo a dormire e poi andiamo a fare tutte le cose. Ok. Scavo come so far io. Ma... Sì? C'è un modo per scavare più velocemente questi alberi? Che senso? Una ricapitator, dice? Una cosa di quel genere? No. Bisognerebbe fare... No, trovarla più che altro. Quella ascia fantastica che rompe le cose di 5 a 5. Eh, sì, purtroppo quella è la tank. Ma qui non c'è, vero? Che non c'è. Adoro quella cosa. Gioco la Technic solo per quello. Io addirittura adoro moltissimo la vanilla. Io gioco in vanilla sbizzando la Technic perché c'è la ricapitator. Tu giochi in vanilla? Eh beh, è assoluto modda di la vanilla. No. Troppa fatica, ce l'ho già lì? Perché dovrei... Non c'è proprio nulla. No, non c'è nulla. Vabbè, torna a casa Lessie. Torna. Torna a casa Lessie. Stanno i fatti fessini. No, non c'è proprio nulla. I'm coming. Ma non è notte? Quasi notte, però non conviene. Va bene. Dove sei? Sto facendo quello che hai detto. Ah, ecco. Così è simmetrico. Mmh, bravissima. E ti mi devi sempre contro, però è sempre quello che dico io. Sì, probabilmente, ragione. Niente, questo muro proprio non mi piace. Ma come fa a non piacerti? È bellissimo. Ehm, è così. Ma così cosa? Ehm, senza... Poi quando avrò i pistoni, senza... Infanne senza lode. Quando avrò i pistoni qui farò l'acqua che viene rilasciata direttamente. Sì, ma la facciata è un po' povera. Mi ha capito, non c'è un cacchio. Ovviamente, è già tanteccio al carbone. Ha preso di adesso. Sì, te diamo su. Dai, 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 dai. Va bene. Ma l'equivalente c'è qui? No. Ah, ci senti. Non ci vedo niente. Eh già. No, ma mi piace perché nell'altra serie faccio gli impianti qui. Oh, ci sei riuscita. Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Meglio lasciare andare. Ah, è vero. Anche nella mappa si vede il lago di lava. Il lago di lava. Bene. Allora. Fai un po' di torce? Le ho fatti tre. Beh, tre torce sono tante. Io perdono. Fai una sessantina, tipo. Vediamo un po' che mantengono fuori. Purtroppo posso farne meno di sessanta. Vabbè, fa niente. Chissà se questo legno... Dove sta questo legno? Dico, non me ne frega niente. Sessantaquattro, è preciso. Gatti? No, io ero quarantaquattro. Stai guardare il capezzo? Sì. Ma io vado a dormire. Che è sta cosa? Barrel? Figata. Ragan? Barrel for a gun. De patch mode. De patch? De patch, non de patch. Sì, mi patch molto. C'è una cosa che si può fare con uno stone slab. Vediamo un po' se abbiamo uno slab. Beh. Sì. Vediamo un poco. Così scopriamo una cosa in diretta. Ma come sarebbe? Con il legno di str... Sto schifo. No. Ah, vuole quell'altro. Aspetta. Guarda questo. Ecco qua. Un barrel. Ma che è? Un barile? Che è? Un barile? Mettila. È un barile. È empty. Ma c'hai messo la torcia? Non c'ho messo nulla. 70 torcia. Ci sono 70 torcia. Come faccio prenderle? Perché ne so? Sei torcia. Che ha preso? Hai preso sì. Ma non è che ce l'avevi tu? Io ce ne avevo... Sì, sì, sì. È un contenitore. Spostati. E come faccio riprendermele? Spostati. Donna, spostate. Sì. Vai. Adesso dice che ci sono... Ah, con il sinistro. Scusa. Ma che figata è un... Cioè le metti là, a vista. Vabbè, è una cosa assolutamente inutile. Non sto ringendo le cittite, ma... Ma ho più torcia di quelle che ne avevo prima. No, è impossibile. Sì, ne avevo 64 e 3. Ah. Ora ne avevo 64 e 9. Addirittura. Ma cosa è possibile? Cioè, c'è... Dormi, 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 dormi. Non siamo qui per indagare. Ma se non stai... Sì, arriva. Intanto, io guardo quanta roba... Quanto abbiamo firmato. Sì, è vero, è vero. Dai, andiamo. Adesso andiamo. Mi butto, mi butto, no. Non mi butto, perché c'è la legge. Mamma mia, stai per tuffarti. Sì, ho notato. Mamma mia, adesso è entrato in testa. Ciocca intorno se ci sono mob. No. Ah, qui c'è un... Spider. Spider. Spider-Man is having you for dinner tonight. Mamma mia, stanna in là. Ma chi? Lo spider. C'è un creeper. No, non ti avvicinare, sono distruttivi e entra dentro il molo. Ok. Ma dove sei? Niente, sono a prendere un po' di ossa che ho trovato. Sto correndo. Ancora due te? Arriva? Sto arrivando. Nel molo. Sì, nel molo. Sì, sì, eccomi. Nel molo. Hai le barche. Le sto fando. Ma non vuoi metterci le casse? Mi piassi. E infatti, ecco di due casse. Me le piassi dove è meglio credi. Dammele. Eh, prima metti piazza alla cassa. Ah, non pensavo me l'avessi già data. Mmm, potrebbero stare qua. Credo che debba abbassare i rumori di Minecraft. Che faccio? Dici, le faccio da due? Sì, fa la doppia. Oh! Problemi con le porte. Ok. Ciapa una barca, ragazzuola. Yes, ma magari più di una, avanti che si rompe nell'andare. Hai ragionissimo. Hei hei hei! Hei hei! Tiyo! Go! Grazie a tutti.